Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Una mamma residente a Manchester è stata profondamente turbata dopo aver trovato un messaggio di minaccia anonima sul parabrezza della sua auto parcheggiata. La storia è diventata virale dopo che la donna ha condiviso il messaggio su Facebook, cercando sostegno e diffondendo l'incidente. Il messaggio, scritto a matita su un foglio di carta, recitava. Il parcheggio era disponibile sia al posto 81 che al posto 83. La prossima volta che devi parcheggiare l'auto, paga il parcheggio ed evita di prendere posti auto preziosi fuori casa mia. Il posto che troverai la prossima volta potrebbe non essere così disponibile. La mamma di Manchester ha espresso la sua profonda angoscia e ha condiviso il messaggio su Facebook per avvertire gli amici e i vicini di tale minaccia. Ha commentato. Adesso parcheggiare è diventata una preoccupazione, anche se quel parcheggio era perfettamente legale e corretto. Ha inoltre incoraggiato chiunque abbia subito danni all'auto di considerare il messaggio come possibile spiegazione dell'origine dell'incidente. La donna ha ricevuto un ampio sostegno dalla comunità online, con molti utenti che si sono offerti di condividere la sua storia e diffondere l'allarme riguardo a simili situazioni. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei parcheggi pubblici e ha messo in luce il bisogno di maggiore vigilanza e rispetto reciproco nelle aree di parcheggio.